E adesso davvero un articolo che non vi piacere e che parla della fine della storia d'amore fra Eleonora Pedron e Max Viaggi e leggiamo direttamente dalla rivista. Max Viaggi e Eleonora Pedron si sono lasciati. Dopo quasi 12 anni, la storia d'amore tra Max Viaggi e Eleonora Pedron è giunta al Capolinea. Il campione di motociclismo e la modella che insieme hanno costruito una bellissima famiglia, avevano già vissuto qualche crisi di coppia, tutte superate nel nome dell'amore. L'ultima risale al 2014 ed era durata un anno, poi Max e Ele erano tornati a essere inseparabili. Testimoni del loro rinato legame, come spesso accade, Isha e Shal. L'ex Miss Italia, in quel periodo, aveva postato sul suo profilo Instagram immagini dolcissime di loro due. Ma qualcosa si era irrimediabilmente guastato così nei giorni scorsi, ecco arrivare l'annuncio della separazione cinguettano da Biaggi su Twitter. È difficile dirlo, ma è finita, con Eleonora ci sono stati momenti difficili, abbiamo provato a recuperare, ma alla lunga non è stato possibile. Da parte della Eleonora Pedron per il momento, nessun commento, anche perché la showgirl è nota per la riservatezza. Solo in occasione del loro ricongiungimento aveva rilasciato delle dichiarazioni. Ci siamo accorti entrambi che avevamo tutto. Una famiglia bellissima, due bambini splendid. E non ci mancava nulla. Nella vita di coppia a un certo punto, quando un rapporto è così perfetto cerchi di evitare questa perfezione. Poi ti rendi conto che ha di fronte a te quello in cui hai bisogno. Insomma hanno provato a rimanere, ma a quanto pare per Max e Eleonora questa volta l'amore è arrivato veramente al capolinea. La fine della storia risale ormai ad una settimana fa, l'articolo come vi abbiamo detto l'abbiamo tratto davvero e non ci sono altre novità da segnalare al momento. E insomma vedendo le parole che ha utilizzato il campione di motociclismo questa volta, mi sembra un addio ponderato, insomma uno di quelli da cui difficilmente si torna indietro.